Ben trovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea. Siamo in primavera, ma avete visto che non siamo ancora riusciti a trovare il bandolo della matassa per quanto riguarda il bel tempo. E questo naturalmente ha un riscontro dal punto di vista del turismo, ma anche del mondo degli aerei. E parleremo ampiamente di questa storia del mondo degli aerei, perché la battaglia sui cieli, i blei e non solo, è una battaglia molto agguerrita. Vedremo come vanno le cose. Allora, sanità. Apriamo parlando di sanità. C'è stato venerdì pomeriggio a Ragusa un dibattito fra i quattro candidati a sindaco con il tema unico della sanità iblea. Ad organizzare l'incontro è stato l'ordine dei medici di Ragusa, vedete l'amico dottor Alessandro Tumino e c'era anche tanta gente che ha voluto ascoltare cosa pensavano i quattro sindaci candidati a sindaco. Ora, sulle polemiche del chi ha vinto o chi non ha vinto, ci ritorneremo dopo quando parleremo proprio della politica locale. Il concetto è che purtroppo però in questi incontri si ci va anche abbastanza largo, non non si va a dire oggi dovremmo intervenire su questo problema e lo faremo al più presto. Per esempio, il problema del personale. Ognuno dei candidati a sindaco potrà dire certamente che non è colpa del sindaco e neanche il sindaco può fare qualche cosa. Ma oggi, ma oggi, ogni giorno, e sentirete un brevissimo servizio, ogni giorno ci sono medici che lasciano gli ospedali, che vanno via dagli ospedali perché pensano di trovare lavoro in un altro posto ancora meglio, perché vengono assaltati, perché vengono presi a botte come accade, perché hanno tante responsabilità e perché è cambiato un po' tutto il mondo e noi avremo bisogno di non so quanti medici in più e non ce l'abbiamo. Qual è la risposta di un candidato a sindaco? E' qui il concetto. Poi possiamo dire quello che vogliamo, parliamo con l'ASP, parliamo col Presidente della Regione, però il problema resta quello. Mancando i medici ospedalieri, obberando, se così poi si può dire, di lavoro i medici di famiglia, senza le autoambulanze e con i medici a bordo, la sanità è veramente nei guai. Ed è il rischio che ho già espresso l'altro ieri, il giovedì, parlando di queste assicurazioni che stanno andando bene, nel senso che la gente dice ma io mi assicuro, perché se ti assicuri, sai cosa succede? Che puoi ottenere addirittura spesso un'assistenza più veloce, puoi trovare qualcuno che ti fa la visita specialistica, anche l'esame, l'assicurazione, ed è un male. Cioè un bene per l'assicurazione, non voglio parlare mai dell'assicurazione, ma è un male perché il servizio cittadino, il servizio nazionale, così viene sminuito, già è nei guai. Se poi la gente comincia ad andare alle assicurazioni, i costi saranno molto alti per il servizio sanitario e le assicurazioni guadagneranno per le cose in più. Questa non è una bella cosa, quindi comunque è possibile vedere le due parti del dibattito di venerdì su Rete Iblea, pagina Facebook, ma anche su teleiblea.it andando nei servizi della televisione, magari cercandole un po' indietro, un po' avanti perché ce ne sono solo quattro alla volta, ma sono nascosti, bisogna premere avanti e vederli tutti, ci sono le due parti del dibattito su teleiblea, già ha fatto diverse centinaia di visualizzazioni. Ma solo per confermare quello che vi ho detto io, vediamo questo servizio, dura 30 secondi, non di più, perché i medici vanno via, sentiamo.